Sono 201 in tutto i positivi in provincia al momento, tra degenza domiciliari e ricoveri. Intanto, nelle ultime 24 ore è stato chiuso con ordinanza dell'ASPO, ristorante cinese, il Momotaro. Un dipendente risultato positivo. Tutti coloro i quali hanno frequentato il locale nelle ultime 48 ore, dall'8 di ottobre, dovranno essere posti in quarantena per 10 giorni e sottoposti a tampone. Pare che il locale non usasse registro come previsto per legge per tracciare i clienti. Quindi per l'ASPO sarà oltremodo difficile individuare tutti gli avventori. Intanto, un alunno di una classe elementare del Plesso Santa Lucia è risultato positivo. Sono nove i compagni in quarantena e poi ci sono anche le maestre. Nel pomeriggio alle 16 il sindaco ha convocato una riunione straordinaria del COC, nella quale deciderà probabilmente di adottare provvedimenti più stringenti in attesa del nuovo DPCM del governo.